Amici buongiorno, oggi vi voglio raccontare un fatto che mi è accaduto domenica tra migliaia di persone un signore mi venne vicino e mi disse in un attimo mi fece fare una fotografia con due persone diversamente altre alla fine di questa foto queste due persone mi dissero tu sei veramente l'unica persona su web onesta e unica signore queste sono le cose che mi stanno facendo crescere su web onestà e semplicità grazie mille a tutti voi è un piacere che su tutti i social si parli della mia persona ma soprattutto del mio personaggio e della mia onestà e semplicità buonasera